Eccoci qua cari amici, Raduno, organizzato dal circolo italiano Cagno Storici, oggi 5 ottobre 2019, siamo stati al bunker qua, nel zone dell'Affro qua, ciao carissima, raduno, venite, andiamo di diretta qua, Eccolo per uscire i mezzi di camion che hanno partecipato qua al raduno, organizzato dal ciclo, avuto camion storici italiano, il capitan altro è bravissimo, è bravissimo Cristiano, eccolo qua, i mezzi stanno per uscire, eccolo qua, Cristiano fanno una battuta, adesso mettono in moto il calone, che è piaciuto, bellissimo, un evento straordinario, bellissimo, bravo Cristiano, No, ma è il merito dei partiti sul te, della banda sul te però, sì, da, eccoci qua cari amici, spettacolo, adesso vediamo uscita dall'inizio di calo, eccolo, eccolo appassionati i camion storici, 6, 2, 6, quasi sabattino, ecco, ecco, mi raccomando fammi sentire il rumbo, ecco, sembra che ci siamo, ecco, effettivamente la nafta c'è, euro 6 chiaramente eh, salute e niente insomma ragazzi andiamo qua a vedere un po' il movimento qua di gatti che mi stanno per azionare guarda, mi stanno scadando guarda, guarda guarda, guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda guarda, guarda, guarda guarda, guarda, guarda questo bellissimo raduno, eccola qua, spettacolo tutta originale, giusto? ecco, tutta originale qua, che romanzo, eh questa 595 è carocca, tutta originale eccoci qua, che amici qua manca la vecchia zona insomma, che portava le tanzine oggi sì, niente, vediamo un po' vediamo c'è, guarda eccolo qua, ragazzi vediamo qua, headwalk eccoci qua, ragazzi vediamo un po' se è qua la carovana andiamo a vedere qua, è bravo il migliore sta passando il casino con il 48 sta passando il casino con il 48 guardate qua guardate qua guardate qua guardate qua guardate qua grande raduno a tevi grande raduno, contento? sì, del CX, grande bella spettacolo, grande Cristiano sì, sì abbiamo fatto una bella cosa come dice Cristiano il merito è della famiglia al stucchetto ha detto spettacolo eccoci qua, ragazzi guarda, il camion, attenzione palpitazione a mille qua, eh il camion sta in scena guardate questo che è muore vediamo un po' guarda, diretti, si sono dite incolonnate i droni qua, eh sopra tanto i droni, però anche i filmati del Marlin vero che comunque si, 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 si si, si, si get what c'è è il via 110 saluto tutti gli amici che siamo un grande e mari tutti gli affassionati di camion tutti i piccoli amici ricordo sempre Mattia di Avezzano ricordiamo il bravo Taribello e insomma chi è l'eserro guarda qua grande Emiliano con il 48 eh sono un po' questi camion che ama Emiliano studio di Gisegno eccolo qua 190 42 pettacolo più post-art bel trattore anche questo ecco ecco vedete qua Federico Brito 48 guardate qua ragazzi il bravo è l'eserro chi non è l'eserro ha perso qualcosa spettacolo eh 170 c'è guardate diretti guardate qua il camion di Sandro eh l'OM operativo nel quotidiano eh spettacolo eccolo qua bravo Sandro guardate qua Marco 180 80 eccolo qua carissimo Marco spettacolo abbiamo un Mercedes spadale qua 3 0-3 lo dedichiamo qua al bravo Alessandro Ronchi e Mauro Garzola appassionati di spadale spettacolo guardate qua appassionati di pulma eccoci qua manca la vecchia Gio con le sue chiacchiere insomma dai prossima volta andiamo qua 690 N3 di Mauro Pesaresi quanti raduni si è fatto questo camion spettacolo grande Mauro vai Mauro spettacolo saluta eh quanti amici Mauro eccoci qua abbiamo 170 qua eh su anche Giseto vai Giseto eh Giseto non è la guida una volta Stefano qua eh con il 180 NC guardate qua spettacolo anche questo anche qua gli inguetri nel canale del Marvin in questo bellissimo 180 tre assi godiamocelo fai una rombata eh fai una bella fai una rombata oh grazie spettacolo eh faccio il pedrone il pedrone il pedrone va bene 626 vai vai piano ciabattino bravissimo 680 bravo bravo Michele bravo Michele ecco qua un rimordio eccezionale guardate qua un po' il paesaggio poi vi faccio vedere ragazzi direi che insomma eh ne valeva la pena fare ancora dei chilometri eh sono partito ieri dal Trentino insomma mi sto godendo questo paesaggio qua laziale eccezionale eh e adesso vediamo lo spettacolo sta per uscire su un Mercedes pianale moderno chiaramente guardate il camion che andiamo a trovare eccoci qua cari amici appassionati di camion qua eh insomma è un'altra diretta che fa spessore e fa ricordo eh anche se non ho il drone guardate qua bravissimo Giuseppe Rousset 34 vai piano guardate mirate godete Chevrolet poi attenzione guardate qua è bravo Cristiano l'organizzatore con il zucchetto che trasporta Saurer Bern attaccolo anche questo con la sua bella figura ecco ecco qua Franco Busch guardate il 625 Barbie grande Franco anche questo stiamo a essere rocca un tipo di Franco Busch poi ragazzi qua per finire attenzione guardate qua sta per uscire 180 guidato era il bravissimo Roberto dei fratelli Zucchetto la mente anche lui è una delle mie è piano Roberto aspetta Roberto ascolta battuta finale Roberto ti è piaciuto il raduno? molto bello siamo contenti grazie a tutti gli amici grazie a tutti e viva Cristiano Politi anche e viva Cristiano Politi e la sua tutta compagnia però ha detto se non c'era la famiglia Zucchetto non si faceva niente calcolo vai Roberto ciao eccezionale da privido godete cari amici ragazzi con questo vi saluto vi saluto qua da vecchia Gio e tutti i quati gli amici che seguono il canale del Mardi guardate qua dal bunker questo bellissimo pesaggio laziale insomma ci ha accompagnato qua con i camion storici spettacolo ciao a tutti ora in seguimento ciao a tutti ciao a tutti